Per acquistare crediti, IGVOLT è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito, link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder come vi avevo anticipato nello scorso video. Vi avrei portato appunto una Ligan molto molto forte e buggata, non so quello che volete voi. È una squadra che vince perché è forte, molto forte, anche se ho perso una sola partita ma per una sfiga pazzesca, dopo vi racconto il caso, ho usato il 433 come quello con il trequartista come potete vedere, come modulo perché mi trovo abbastanza bene con questo modulo, con questo tipo di schema e l'ho pagata circa 25.000 crediti, quindi una cifra molto bassa, abbastanza bassa, ma comunque che rende tantissimo. Comunque partiamo dal portiere, il nostro Costil che è davvero un ottimo ottimo portiere, prima di tutto perché costa 700 crediti e poi perché ha delle statistiche molto molto buone, tutte sopra quelle più importanti, tutte sopra l'80, soprattutto spicca un 85 di riflessi che è molto buono, è alto, quanto basta, ha un buon reinvio, quindi devo dire che è un buon portiere, fa delle ottime parate, avrà tipo preso 3 gol in 5 partite, 5 che poi sono 4 perché nella prima partita ho giocato 10 minuti e poi l'avversario è acquittato sullo 0-0. Non chiedetemi perché aveva una squadra della Madonna, tra l'altro. Andiamo con il terzino di destra, Vanderbilt, ho scelto lui ma in realtà prima di tutto volevo prendere Aurier, ma c'era un distacco di prezzi troppo elevato tra i due e quindi ho deciso di prendere Vanderbilt perché se no mi veniva a costare molto di più la squadra, tipo Aurier costa qualcosa come 4.000-5.000 crediti, quindi ho detto punto su Vanderbilt che più o meno le stazze sono simili. Infatti mi è piaciuto abbastanza, non ha fatto danni come in realtà mi aveva fatto l'anno scorso in qualche squadra, se non erro, ma devo dire che è sempre stato abbastanza attento e buono in difesa. Poi i due centrali sono Sané sulla destra, in realtà volevo prendere Perren ma costava anche lui molto di più e quindi ho optato per Sané che comunque ha delle buonissime statistiche, work da difensore giù, certo difensore puro, forte in difesa, forte di testa perché è alta, ha una buona elevazione, un buon colpo di testa e una discreta velocità e inoltre costa 700 crediti, quindi quasi un discrep price. Devo dire che mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto ancora di più il suo compagno di reparto, un Kulu che lui costa un po' di più sui 3.500 crediti, però vi garantisce una buona velocità, quindi molta atleticità in difesa, forte appunto in difesa, buono in fisico, anche nei colpi di testa abbastanza, un po' meno di Sané, però comunque si avvale i crediti spesi, è davvero una buona coppia di centrali. Mentre il terzino di sinistra, un giocatore che non mi aspettavo, a Sue Coteau l'ho preso perché aveva delle buone statistiche, un po' migliori rispetto a Van Der Wiel, ma mi ha sorpreso tantissimo questo giocatore, sempre al posto giusto, sempre a intercettare palloni, sempre forte nelle ripartenze, difficile da prendere comunque sia nelle ripartenze, attacca e difende con il suo worket alto-alto. Devo dire che questo giocatore è veramente forte, provatelo perché non ve ne pentirete, poi costa solamente 750 crediti. Andiamo con il centrocampo, troviamo come Cicci di destra, Diarrà, che in realtà lui è un CDC, quindi dovete usare il cambio di ruolo, ma non costa tantissimo. Giocatore che rende molto perché è veloce, perché ha un discreto passaggio, ha anche un buon deribling tra l'altro, è molto forte in difesa, recupera un sacco di palloni, ma tra l'altro mi ha fatto due gol e un assist in cinque partite, cosa veramente molto buona per un centrocampista che ha comunque 52 di tiro e mi ha fatto, se vedrete dopo le clip, un gran bel long shot, dopo vedrete appunto. Mentre il suo compagno di reparto è il mitico Tolisò, che di mitico ha poco, l'ho preso perché aveva tutte delle ottimissime statistiche, quantomeno tutte sopra il 72, mi sembrava molto solido come centrocampista. Mi ha un po' deluso perché sbaglia diversi passaggi, sbaglia a volte magari qualche movimento che non mi è piaciuto, però comunque sì, anche lui mi ha fatto due gol e un assist in cinque partite, e questa è la prova che i centrocampisti in questo gioco segnano tantissimo e sono, secondo me, la parte più importante di una squadra quest'anno, però Tolisò ci può stare, ecco, forse costa un po' troppo rispetto a quanto dovrebbe rendere in game. Mentre il trequartista, il CoC, è il mitico Ben Yedder, che in realtà è un attaccante puro, bisogna prendere i cambi di ruolo, io sono riuscito a trovarlo già CoC a 650 crediti, quindi pochissimo, e l'ho preso al volo perché era un'occasione e vi consiglio di prenderlo perché questo giocatore è fenomenale, con un costo relativamente basso, cioè non pensate che questi 5.000 crediti in realtà costa tipo 1.500, forse 2.000 crediti, ma vi garantite un trequartista coi fiocchi perché è veloce, perché ha un ottimo dribbling, 4 stelle abilità, un tiro esageratamente buono, fisico, vabbè, chi se ne frega, passaggio molto molto buono, un assist, due gol in 5 partite, contando che sono 4 le partite, prezzo relativamente basso, 5 stelle pedale, 4 stelle abilità, cosa volete di più da un trequartista? Forse le 5 stelle abilità, però ovviamente non si può voler tutto. Andiamo con la parte più offensiva della squadra, cioè gli attaccanti come attaccante di destra, alla destra, Amuma, che è forte, mi è piaciuto, quest'anno mi stanno piacendo molto le ali di destra, un po' meno quelle di sinistra, non chiedetemi perché, perché non lo so, però Amuma costa poco, è forte in tutte le statistiche, è veloce, ha un ottimo tiro, sia di destra che di sinistra, perché comunque ha 4 stelle pededebole, ha anche 4 stelle abilità, un buon dribbling, un ottimo passaggio, infatti mi ha fatto due assist, un solo gol in 5 partite, però vi consiglio di prendere questo giocatore. Certo, se avete più crediti magari c'è qualcosa di meglio, che ne so, tipo Lucas, però sta a voi. Come ala di sinistra ho utilizzato un tap, che mi si è infortunato tipo due volte, mi ha fatto un solo gol in 5 partite, perché, come vi dicevo, mi sto trovando molto meglio con le ali di destra rispetto con quelle di sinistra. Un tap costa più di 6.000 crediti, e quindi è un investimento, e non mi ha fatto impazzire quanto pensavo mi facesse impazzire, cioè pensavo che mi avrebbe fatto un sacco di gol, un sacco di assist questo giocatore, perché è veloce, perché ha un ottimo fisico, perché ha tutto, ha 4 stabilità, un ottimo dribbling, un ottimo tiro. Invece, boh, sì, è buono, ma potrebbe dare di più, ecco, quello che voglio dirvi. Però comunque sia, provatelo, magari è forte, che ne so, da ATS per dire, non ho ancora provato quel tipo di modulo, quel tipo di ruolo, quindi fatemi sapere voi se lo avete provato. Infine, come attaccante, abbiamo il mitico BV, che è fortissimo, ma mi ha fatto solo due gol in 4-5 partite, quel che sono. Questo perché, non lo so, è partito a razzo, due gol, appunto, gli unici due gol me li ha fatti nella prima partita, con una doppietta, poi si è spento, o meglio, è diventato sfortunato. Nell'unica partita che ho perso, che ho perso per un gol di scarto di culo dell'avversario, ha preso, se non sbaglio, due palli e due traverse, o qualcosa del genere, o comunque la palla non gli voleva entrare a BV, è entrato, non lo so, in una sfiga totale, che mi ha fatto perdere la partita, una cosa veramente inspiegabile. Comunque le statistiche, come vedete, sono ottime, velocissimo, ottimo tiro, buona finalizzazione, anche un buon passaggio per essere un attaccante, costa poco, abbastanza poco, 2800 crediti, sono poco, 4 stelle abilità per un attaccante ottimo, mi aspettavo fosse più alta, a dir la verità, però comunque sia, chi se ne frega, mi ha fatto anche due assist in 5 partite, comunque sono buoni per un attaccante, purtroppo ha segnato un po' meno rispetto alle mie aspettative, però comunque sia, io vi consiglio anche di provarlo, altrimenti, secondo me, di migliore, ci potrebbe essere Bright White, che ha delle statistiche quest'anno veramente spettacolari, e anche un work davvero spettacolare, quindi fatemi sapere. Ragazzi, questa è la squadra che vi consiglio di provare, perché è molto forte, come sempre vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace uscirà il prossimo video, ovviamente, fatemi sapere nei commenti che squadre volete, in futuro, che tipo di video vorreste vedere, e come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina di Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione, adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video, bella! The reason I breathe The reason I breathe Iscriviti al canale Iscriviti al canale Grazie per la visione!